E' ricoverata in gravissime condizioni l'anziana signora di Alessano aggredita in casa dal suo cane un esemplare corso. La malcapitata di 98 anni è stata soccorsa dal nipote proprietario dell'animale e da un'altra persona dopo che le sue urla hanno attirato la loro attenzione. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Alessano poiché la stazione è vicinissima all'abitazione e anche i militari hanno dito il grido di aiuto della donna. Aveva delle profonde ferite al volto e in altre parti del corpo. Immediata la chiamata di intervento per un'ambulanza. Sul posto sono arrivati i sanitari partiti dall'ospedale di Tricase che hanno condotto la malcapitata con codice rosso al cardinale Panico. Il quadro clinico è preoccupante, l'anziana donna lotta per la vita. Il nipote avrebbe cercato in vano di allontanare l'animale dal corpo della donna. Quando sono arrivati i carabinieri si sono trovati davanti ad una scena drammatica e sono stati costretti a sparare al cane per provare a mettere in salvo la vittima. La donna ora si trova ricoverata in rianimazione, intubata ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Mentre il cane, gravemente ferito, è stato preso in carico dal servizio veterinario dell'ASL. Sul posto sono intervenuti anche per le indagini i carabinieri della stazione di Alessano e le guardie zoofile. Dei fatti è stato informato il pubblico ministero di turno.